andiamo a vario titolo sia privatamente cioè proprio con i soldi che tiriamo fuori dal portafoglio siamo come contribuenti quasi più di 26 miliardi l'anno siamo vicini ai due punti di pile una spesa enorme che ha delle tendenze molto interessanti basti pensare che ognuno di noi in media prende due medicine al giorno ma è il classico pollo anzi pillola di tre lussa perché ci sono differenze enormi che non riguardano solo la fascia di età ma anche ad esempio la regione in cui abitiamo con delle differenze che sono anche curiose sui vari tipi di farmaci che vengono prescritti sul territorio nazionale qui meno e qui più e poi ci sono i farmaci prescritti e utilizzati in modo inappropriato che sono spesa inutile e magari anche dannosa sicuramente per lo meno dal punto di vista economico ma non solo ne parliamo con i nostri ospiti qui in studio con me Sabrina Nardi che è vice coordinatrice del Tribunale per i diritti del malato benvenuta Salve accanto a lei Giacomo Milillo che è segretario nazionale della Federazione Italiana dei Medici di Famiglia benvenuto grazie e collegato con noi dagli studi di Roma Quirinale Luca Pani direttore generale dell'AIFA benvenuto Pani grazie allora Pani abbiamo detto che vogliamo fare una specie di panoramica di questi dati molto interessanti sulla prescrizione, l'utilizzo, la vendita dei farmaci sia a livello ospedaliero che nelle farmacie dove andiamo tutti noi sono usciti recentemente i dati aggiornati dello studio OSMED, studio annuale ultra approfondito quali sono Pani le tendenze generali se si dovesse condensare in un minuto quello che è il rapporto e come si è evoluto in questo ultimo anno tra noi e le medicine la spesa territoriale sta continuando a tenere cioè quella praticamente nelle farmacie quindi ha addirittura una minima riduzione di questi 26 miliardi e 6 quella che non sta tenendo è la spesa ospedaliera che è salita globalmente addirittura dei livelli che per alcune fasce di farmaci di farmaci oncologici è quasi aumentato del 10% nell'anno nell'anno mobile e devo dire che condensando questo si vede negli ultimi 3-4 anni un cambiamento epocale della distribuzione del paniere dei farmaci i farmaci che si sono genericati come si dinti sono ormai arrivati quasi alla fine del loro percorso non ne avremo più granché di altri mentre i farmaci ad alta tecnologia i farmaci oncologici ad alto costo ma non solo loro ce ne sono anche altri avete sicuramente sentito quelli dell'epatite C in tutti questi mesi stanno spostando il nostro paniere C'è un pericolo Pani da questa evoluzione cioè che vede farmaci che per essere chiari costano poco perché appunto di vecchio brevetto scaduto equivalenti sempre meno utilizzati in favore di farmaci invece molto più complessi innovativi e quindi anche molto cari per rispondere a malattie anche o prima incurabili abili o sempre più specifiche? Sì, devo dire che non è solo che sono meno usati i farmaci generici i farmaci generici o equivalenti sono arrivati a delle cifre ormai minime quindi anche usandone anche tanti si risparmia molto poco mentre i farmaci come gli anticorpi monoclonali e gli altri farmaci ad alta tecnologia sebbene curino un numero inferiore della popolazione costano moltissimo quindi come se ne esce? Se ne esce rivedendo la governance di questo sistema e c'è un tavolo che si riunirà e si sta già riunendo in realtà si riunisce già da qualche settimana e che a fine settembre dovrà iniziare a dare delle ricette delle prescrizioni per questo difetto di governance che si sta evidenziando? Quello che stiamo dicendo naturalmente deriva un po' dalla demografia e dal fatto che la vita media si è alzata molto si presentano delle patologie diverse si riescono a curare delle patologie che prima non erano curabili così come lo sono oggi ma naturalmente ci dice anche molto la spesa per i farmaci sia su come spendono le aziende sanitarie e in ultima analisi le regioni cioè la mano pubblica sia come spendiamo noi come consumatori in farmacia Sabrina Nardi una delle cose che emergono quando si vedono questi studi ed è una cosa tra l'altro che ha proprio detto Pani presentando l'ultimo studio Osmed è un paradosso della spesa cioè le regioni che spendono meno spesso hanno livelli migliori di assistenza cioè nella spesa farmaceutica e forse sanitaria in generale è il contrario del senso comune di solito quando io compro una cosa che costa poco mi aspetto che funzioni meno bene o viceversa qui invece è il contrario cioè laddove il servizio è più inefficiente costa anche più caro ma com'è possibile uno si domanda che con i chiari di luna che abbiamo la situazione sia ancora questa? Siamo parlando sostanzialmente della qualità della spesa quindi come spendiamo i soldi dei cittadini che vengono affidati alle regioni per erogare i servizi in realtà questo non è propriamente vero i dati del 2012 dimostrano che regioni come Campania, Calabria spendono meno della media nazionale la media nazionale è 1860 euro pro capite la regione Campania ne spende 1711 per cittadini e di certo non possiamo dire che è una di quelle che spende meglio la regione Emilia-Romagna che è una di quelle regioni considerate tradizionalmente virtuose che garantisce i LEA i livelli essenziali di assistenza per i cittadini è una di quelle che investe oltre 2000 euro per i suoi cittadini quindi non è una regola generale può succedere però la norma è che succede anche che chi spende peggio ovviamente spende peggio per i suoi cittadini eroga meno servizi e quindi quei soldi vengono davvero spesi male perché pochi o tanti che siano non riescono a dare quel risultato e quelle garanzie in termini di salute di cui i cittadini hanno bisogno quando si parla appunto di spesa per i farmaci c'è una grossa fetta che è quella diciamo o direttamente ospedaliera oppure pagata dallo Stato quindi che il cittadino non deve pagare poi però c'è anche il contributo privato proprio alla spesa a Minillo un altro degli apparenti paradossi che ci sono è che puoi vedere perché è aumentata anche la spesa privata cioè dei cittadini per comprare medicine un po' deriva ad esempio dai ticket che arrivano ci sono molte regioni di sesto sanitario quindi bisogna comunque chiedere dei soldi ai cittadini ma una componente grossa è che molti preferiscono mettere mano al portafoglio per avere il farmaco griffato invece quello equivalente o generico che prescrivete voi medici è una stranezza italiana paradossale oppure ci sta tutto? no ci sta perché è la conseguenza di scelte regolamentari cioè nel senso che se il farmacista se il mercato non stabilisce che un certo principio attivo ha un prezzo ed è quello e in nome della libera concorrenza non lo so consente prezzi diversi chiaro che il servizio sanitario nazionale dice io rimborso fino a questo si chiama prezzo di riferimento però la libertà di scelta del cittadino deve essere rispettata e quindi caso mai integra e sono due cose diverse uno è la partecipazione alla spesa come ticket e l'altro è la differenza fra quello che il servizio sanitario riconosce e quello che è il maggior prezzo del singolo prodotto però Berlino dal punto di vista di un medico di famiglia è una autotassa che io mi applico quella di spendere di più per avere lo stesso principio attivo ma col nome che conosco magari da anni di cui mi servo da anni invece dell'equivalente cioè lei ai suoi pazienti dice comprati l'equivalente non spendere di più perché tanto è la stessa cosa o dice fai tu è uguale no io prescrivo l'equivalente il problema è che poi questo equivalente è prescritto non so poi effettivamente come viene consegnato può diventare un altro equivalente nel caso in cui scrivo il principio attivo in genere motivo e quindi spiego l'assistito che alla persona che glielo ho scritto perché c'è un motivo particolare e fra l'altro io personalmente scrivo non sostituibile Pani dal punto di vista della cultura sia appunto dei medici che prescrivono che dei pazienti che li usano che dei farmacisti che li vendono in Italia come siamo messi su questa cultura dell'equivalente cioè del fatto che si guarda al principio attivo e non il nome commerciale del farmaco e poi spesso si prende quello che costa meno comunque lo Stato rimborsa solo quello che costa meno in passato c'erano delle grosse differenze nel rapporto con l'estero oggi come siamo messi? Siamo messi meglio nettamente meglio negli ultimi tre anni abbiamo fatto un grande balzo in avanti siamo anche arrivati però a quello che si chiama l'ultimo miglio cioè andare a prenderci le ultime percentuali salire sopra il 70% eccolo qua è piuttosto difficile devo dire che però una domanda più vasta è quello che diceva anche anche Giacomo Milillo e che diceva anche lei è tra tutte le sfide dell'agenzia quella sicuramente più complicata è quella della cultura del farmaco noi non abbiamo in generale come paese una grandissima cultura scientifica e questa si amplifica in maniera enorme nella cultura del farmaco in generale abbiamo uno strano atteggiamento sono sicuro che moltissimi cittadini hanno acquistato dei farmaci sono andati dal loro medico medicina generale se lo sono fatti prescrivere lo hanno acquistato non sono sicurissimo che lo usino non sono sicurissimo che lo usino bene i dati dell'Osmed dicono per esempio che abbiamo ancora dei livelli di aderenza di appropriatezza molto scarsi Pani su questo soffriamoci in attimo perché sono dei dati sempre abbastanza incredibili quando vengono pubblicati ad esempio gli antibiotici che sono uno dei tasti dolenti secondo appunto lo studio Osmed il 30% eccolo qua nel 30% dei casi l'uso di questi farmaci è inappropriato che vuol dire Pani che è inappropriato cioè che tanto vale a non prenderlo che ne prendo poco ne prendo troppo non devo prenderlo proprio sono tutte queste cose che ha detto sono utilizzate per esempio quando ci sono infezioni virali quando ci sono infezioni dei tratto respiratorio o anche del tratto urinario per esempio e quando sono presi sono presi male devo dire che su questo nello specifico l'agenzia ha fatto delle grandi campagne lo avete visto forse ve lo ricorderete le continuiamo a fare e abbiamo migliorato abbiamo migliorato nel senso che abbiamo diminuito la quota di antibiotici globali del 3% però rispetto all'anno precedente però ancora ci sono delle enormi sacche di ma è molto peggio che all'estero Pani cioè quei dati visti in un altro paese non solo la Francia la Germania la Gran Bretagna non sono così alti cioè i tedeschi non li pigliano il 30% di antibiotici in modo sballato oppure li pigliano e c'è c'è un altro fenomeno interessantissimo esiste un gradiente nord-sud in tutte le parti del mondo cioè il nord della Germania va meglio del sud della Germania che ovviamente però è al nord dell'Italia tanto per dirne una e quindi questo gradiente è un gradiente che deriva probabilmente da alcune abitudini anche di maggiore tendenza a resistere per esempio alle infezioni del tratto respiratorio superiore faccio per dire le infreddature gli infreddamenti che arrivano dall'inizio dell'inverno e che sono notoriamente in gran parte al 90% virali basterebbe aspettare qualche giorno se c'è la febbre riposare e mettersi a letto invece si usa spesso un antibiotico peraltro si usa un antibiotico e si usa male soprattutto nei bambini entro i 5 anni d'età dai 3 ai 5 anni e nelle fasce più alte oltre i 65 anni cioè nei due estremi che per esempio si giovano moltissimo della vaccinazione anti-influenzale e che la fanno poco quindi c'è ecco la cultura del farmaco a cui mi riferivo diciamo che se c'è quello che lei ha definito il gradiente nord-sud c'è una differenza tra l'uso al nord e l'uso al sud e l'esia forse appunto c'è una componente climatica anche di assuefazione alle temperature più o meno rigide Nardi questi dati sull'inappropriatezza dell'uso dei farmaci sono avanza sconvolgenti perché ripetiamo in periodi in cui uno veramente controlla tutto quanto la spesa al centesimo lo Stato e le amministrazioni locali non hanno veramente soldi da spendere quando uno vede che punti percentuali che arrivano fino al 30 nel caso degli antibiotici vengono buttati sostanzialmente possiamo dire che l'uso inappropriato è buttare via i soldi è veramente singolare strano anche se Pani ci diceva va migliorando sì in effetti il tema dell'appropriatezza della conoscenza anche del farmaco del perché sto assumendo quella terapia che mi è stata consigliata dal medico è importante noi abbiamo fatto un'indagine su una categoria particolare di persone che assumono i farmaci che sono le persone che hanno una patologia cronica o rara quindi che li assumono in maniera continuativa sono dei salvavita e in realtà anche loro hanno dichiarato che in alcuni casi non seguono proprio le indicazioni del medico perché non sono chiare perché quando lo cominciano ad assumere per esempio gli effetti collaterali sono troppo pesanti e non riescono a tollerarli o perché impattano troppo sia a livello psicologico sentirsi dipendenti per tutta la vita da un farmaco non è una cosa da poco o perché impattano molto sulla qualità della vita perché per esempio è necessario andare in una struttura ospedaliera per riceverlo piuttosto che è particolarmente invasivo sentiamo su questo anche Milillo nel senso che voi che siete all'altra parte della ricetta quando si prescrivono anche questi 30% ad esempio di antibiotici usati male e quindi buttati io sarei meno drastico però prima di tutto perché la prescrizione e la cura è una cosa complessa che coinvolge molti aspetti della singola persona e dell'organizzazione quindi il problema che è stato messo in evidenza è un problema non si può pensare però di cancellare la non aderenza con dei singoli interventi così come non si può rendere dalla mattina alla sera perfettamente appropriato l'uso degli antibiotici io credo che i progressi che abbiamo fatto siano da sottolineare più degli sprechi cioè l'attività regolamentare di regolamentazione dell'AIFA ha prodotto notevoli risultati e anche sul piano dell'appropriatezza non solo della spesa negli ultimi dieci anni attraverso sistemi di verifica del comportamento prescrittivo anche il comportamento dei medici sia del territorio sia dell'ospedale hanno prodotto dei risultati quindi stiamo migliorando secondo me stiamo migliorando poi ci sono delle cose che l'AIFA sta facendo ed è importante e dovrà sviluppare con questo database è quello di correlare le scelte i consumi e i risultati di salute perché per esempio quello dell'uso dell'antibiotico io mi riferisco a un dubbio di qualche decennio fa di un decennio fa quando i britannici non prescrivevano l'antibiotico nelle tonsillitis e non c'era la positività del test per lo streptococco beta-emolitico gli italiani invece lo prescrivevano assolutamente in eccesso se poi si va a vedere l'incidenza delle malattie reumatiche che conseguono a quell'infezione si vede che in Italia ce ne sono meno che in Gran Bretagna è vero non è vero cioè questo lo dobbiamo vedere confrontando l'uso del farmaco con la clinica e quindi sono necessari i database che l'AIFA sta facendo poi sapete tutto un discorso anche dell'efficacia degli antibiotici quando si udano troppo quindi la resistenza è un tema forse per un'altra trasmissione perché naturalmente c'è anche un risvolto economico molto importante Pani un'altra cosa che viene fuori sono queste differenze regionali incredibili nella prescrizione nell'utilizzo dei farmaci qualche esempio di quelli più eclatanti ad esempio per restare agli antibi parlato dosi giornaliere ogni mille abitanti in Campania 33 nella provincia di Bolzano 14,5 ma come si spiega questo dato Pani mettiamo un altro tanto per mettere carne al fuoco antidepressivi sempre qui dosi giornaliere ogni mille abitanti in Toscana 59,5 in Campania la metà 30,5 cioè c'è un'incidenza di depressione molto maggiore in Toscana rispetto alla Campania oppure ci sono strutture che operano in modo diverso c'è un'abitudine come si spiega tutto questo strano strano differenza tra le regioni per esempio per quanto riguarda la Toscana la depressione io faccio lo psichiatra prima di fare il direttore dell'AIFA facevo questa professione deriva come lei ha fatto notare da una da una grande scuola di psichiatria che è quella del professor Cassano che sta a Pisa e dai suoi allievi e sicuramente dal fatto che moltissimi pazienti italiani si sono recati e si recano regolarmente lì per avere la diagnosi e spesso la prima prescrizione e questo è un fattore altro è la sensibilità naturalmente che si crea avendo una scuola di quella portata anche in tutti i medici e gli specialisti che operano in quella regione e comunque sulla depressione e questo è un altro dei dati che ha fatto rilevare molto bene il rapporto Osmed siamo ancora a un paziente su tre di quelli depressi che prendono i farmaci antidepressivi e tra quelli che prendono i farmaci antidepressivi come diceva la dottoressa Nardi esattamente quello che capita è che quelle percentuali di coloro che aderiscono è ancora di uno su tre il risultato è che curiamo un numero molto basso il 15-20% se li curiamo anche bene delle depressioni quindi appunto se uno su tre assumi i farmaci e uno su tre di questi li assumi in modo su nove e Milillo su questo ci sono a volte questo è un caso assolutamente di scuola delle cose che fanno pensare agli eccessi uno pensa al caso americano gli antidepressivi dati diciamo ovunque è sempre anche in tenerissima età quanto contano queste percezioni di abuso ogni tanto del farmaco soprattutto per certi tipi di patologie quanto generano scetticismo nei confronti poi di chi dovrebbe essere sotto cura per quanto riguarda la mia personale percezione l'abuso di psicofarmaci riguarda più le benzodiazepine che sono assunte acquistate direttamente in farmacia con una ricettazione bianca diciamo noi privata che è ripetibile quindi sfugge un pochino al controllo del medico sull'antidepressivo ci potrà essere uno spreco io credo che ci sia più una resistenza dei medici e degli assistiti ad usarlo in modo corretto il problema è che si deve assumere si deve fare una durata di terapia adeguata e poi si deve provare a smettere sotto controllo per poi eventualmente Nardi una parola ancora in chiusura su queste differenze regionali abbiamo anche visto gli antinfiammatori anche questi molto curiosi la Puglia le prescrizioni in Puglia sono tre volte quelle della Lombardia riesce difficile immaginare che dipenda in qualche modo al metabolismo diverso dei Lombardi rispetto ai Pugliesi questo intercetta anche un po' il tema del dolore dell'attenzione che viene dedicata al dolore del fatto che molti vanno sul fai da te quindi anziché rivolgersi al medico vanno direttamente in terapia e questo può essere diffuso più o meno nelle varie aree del paese dipende anche dalla cultura che si ha e appunto dalle conoscenze e l'educazione sanitaria che hanno ricevuto e dal contatto che hanno con i medici e dalla fiducia che hanno con farmacisti medici di famiglia specialisti di riferimento per la cura di sintomi molto comuni come può essere quello del dolore e quindi diciamo che se la realtà è così variegata e frastagliata pur con anche delle motivazioni assolutamente razionali prima possiamo dire che le best practice come si dice ci sono anche in Italia e se ci si uniformasse a queste grandi miglioramenti sono possibili abbiamo visto comunque miglioramenti già sono in atto e quindi da questo punto di vista la situazione non è così male come potrebbe sembrare quando leggiamo in modo asettico le statistiche su questo ci fermiamo e ringrazio gli ospiti che sono stati con noi la linea torna al telegiornale questa è Sky TG24 Academia la linea torna